a livello minimo di 15 lumens con nastro magic tape faccio vedere è stata nastrata con il magic tape della 3M per rendere le fasce offload questi sono 15 lumens, si vede pochissimo 120 lumens dovrebbero essere circa 120-130 lumens 365 lumens e circa 900 rotti lumens ora tolgo il magic tape così vediamo la differenza e questa è la TK35 normale questa TK35 è stata moddata è neutral white, it's an L2, B3C un bel ginger e la TK35 è stata moddata con il magic tape e la TK35 è stata moddata con il magic tape e la TK35 è stata moddata con il magic tape